Approfitto di questo momento però per richiamare anche l'attenzione della cittadinanza su un altro aspetto. Purtroppo è stato segnalato qualche caso per fortuna nel nostro Polesine raro di persone che qualificandosi come infermieri chiedevano l'accesso alle abitazioni per effettuare il tampone. Assolutamente non è così, non è questa la modalità, non c'è questa necessità, valgono le regole che sono state annunciate in precedenza ovvero soltanto chi è stato a contatto con persone provenienti dal focolaio del virus sono sottoposte sempre in via ufficiale a controlli. Quindi non aprite le vostre abitazioni a nessuno che si qualifica come infermiere perché sono degli impostori ed è un'attività per la quale noi stiamo prestando anche da parte delle forze dell'ordine naturalmente la massima attenzione, la massima repressione per cui assolutamente non date credito a questo tipo di informazioni.